Raga mi raccomando guardate tutto il video, la intro la registro dopo il video che ho fatto su FIFA, episodio 2 signori, spero che vi piaccia perché a me piace un casino portare comunque contenuti di calcio sul canale e anche FIFA, mi sta piacendo molto, detto questo raga dopo la sigla ci vediamo in game, bella. Ragazzi dunque eccoci qui in game su FIFA, raga vi faccio vedere subito una cosa nella squadra perché oh eccolo qui signori, Beghetto è arrivato finalmente in squadra, infatti grazie a Kwame che ha segnato la sua doppietta siamo riusciti a vincere sono riuscita a vincere off camera contro il Chiavari mi sembra o il Cittadello o il Chiavari non so mi confondo raga scrivetelo nei commenti e 2 a 1 quindi Kwame ha segnato al novantesimo perfetto raga e guardate qui nella schermata group stage UEFA Champions League allora un attimo che sposto la webcam come giocare ok qui ci oh mio dio le ricompense oh mio dio oh mio dio cosa sto vedendo Van de Beek, Candreva, Dibas oh mio dio cosa sto vedendo intanto benvenuto nel nuovo evento fase giro di Champions League in questo capitolo completa le partite giornaliere per ottenere divise delle squadre ottenere vittorio nelle partite giornaliere ottenere la sufficiente per sbloccare i premi raga boia cioè è facciamo inizia si può fare inizia ok si locomotive mosca eh loro sono più forti raga vediamo un po' partiamo dal primo tempo 0 a 0 vediamo un po' signori calcio d'inizio battuto e parte Luis Felipe ma è chi Brian eccolo qui Brian subito Brian Brian per Christian Quamè Quamè Quamettia al settimo minuto ha già segnato cioè raga impossibile fermate questo uomo per favore Turam è partito il francese Turam 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 Beghetto arriva sul pallone però Beghetto non riesce a vincere questo rimpallo Christian Quamè Quamè per Turam passaggio però effettuato all'indietro Quamè 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 Rientra Rientra Quamè Vediamo un attimo questo gol per favore C'è di rovesciata Mekki raga di rovesciata Mekki tanta roba bel gol raga il gol più bello che io abbia mai mai fatto in questa carriera Brian 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 perde palla però c'è sempre Christian Quamè 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 Mekki gli tocca la palla Ribus esce Dan solo per un attimo attenzione al nostro partiere cosa ha sbagliato Paliari ha fatto una parata della madonna in difficoltà e poi sbaglia lì l'attaccante del locomotive Mosca che non ho visto bene chi era Ovedes che ha giocato anche nella Juve Ovedes tipo per un anno che neanche per un anno perché ha fatto una partita perché è tipo stato infortunato tutto il tempo attenzione qui attacca il locomotive Mosca oh raga Paliari comunque è forte perché ha coperto bene lo specchio della porta Turam 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 attenzione è partito è partito il francese Turam nulla da fare poi ancora Turam raga finisce qui la partita signori abbiamo vinto 2 a 0 la difficoltà era pure difficile abbiamo sbloccato la maia del locomotive Mosca e dobbiamo aspettare un giorno per per come si dice per per battere il lione che è un 79 è un gen 79 il lione facciamo un pochino di division arrivals che va comunque cioè bene christian quame christian quame prende subito palla mamma mia christian quame ecco lo raga lui per esempio è già in attacco christian quame noi abbiamo già segnato per dire success per ah no quello era turam poi adesso c'era success christian quame 2 a 0 seri seri no deviata e poi gol di testa però mi è dispiaciuto raga per seri palla che arriva quame tiro di testa murato poi di luis felipe segnalata luis felipe che sta un po' calando di forma eh se posso dire cosa è sbagliato qua sta un po' calando di forma luis felipe perché non segna più come prima qui mckey fa un cross bruttissimo a campana poi sa se come fai a sbagliarmelo dai frano non è possibile parte il tiro non ha da fare luis felipe felipe spiazza il portiere quame 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 il tiro palo no quame non puoi sbagliarmi così poi il tiro e adesso gol cioè abbiamo vinto 5 a 6 a 1 scusate vabbè 30.000 tifosi per noi e abbiamo un'abilità eh una nuova abilità sbloccata ok andiamo subito a vedere che cosa ci da in palio a punteggio stelle così per 30 perfetto e in teoria ecco no pass stelle dovremmo ritirare questo premio 7.000 piedi allenamento 7 7.000 si 7.000 piedi allenamento raga spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale detto questo ci vediamo in un prossimo video bella ciao